Allezio Ricci di Pratola Peligna, sfida tra Nerostellati e Spoltore, diretta dal signor Davide Sciubba della sezione arbitrale di Pescara. Esordio in panchina per Alberto Bernardi, neotecnico dei Peligni, subentrato in settimana all'esonerato Francesco Saccoccia. Nella formazione pratolana sono Pendenza e Moscone i terminali d'attacco. A centrocampo Sisse Papis e Iacobucci formano la coppia di interni, mentre Bruno e Puglia gli agiscono sulle fasce. Gli ospiti di mister Donato Ronci si presentano con Cabanias al centro di un attacco sostenuto anche da Grassi e di Pentima con Di Camillo, metronomo del centrocampo. Grande equilibrio nel primo tempo avaro di occasioni da rete. A metà della prima frazione di gara, quando l'occasione sembra essere quella buona, Pendenza preferisce servire Puglielli anziché calciare in porta con un nulla di fatto che si ripete anche alla mezz'ora sul tentativo di Moscone che non inquarra la porta ospite. Decisamente più emozionante il secondo tempo che si apre con i nerostellati in avanti con l'invito di Delgizzi che non trova la correzione vincente. Lo spoltore risponde su palla inattiva ma Amo riesce a bloccare in due tempi appena prima della linea di porta. Il primo cambio del match vede l'inserimento di Bordoni per pompa nello spoltore che manovra e guadagna metri senza però produrre occasioni da gol. Proprio a metà del secondo tempo l'equilibrio si spezza. È il gran gol di Pendenza a portare in vantaggio i nerostellati. Per l'attaccante Peligno è il tredicesimo gol in campionato. Negli ospiti fuori Sborgia e dentro Sanz. I parroni di casa invece rinforzano gli ormeggi sostituendo Moscone con Signi. I nerostellati tengono botta e si rivedono in avanti con la conclusione di Sissepapis alta sulla traversa. All'ottantaquattresimo è il secondo assistente di linea a invalidare la rete di Grassi per un fuorigioco accompagnato dalle proteste dello spoltore. Ancora in avanti alla ricerca di un pareggio che non arriva neppure quando è Sabatini a staccare di testa senza però inquarrare la porta di Amo che poi al novantunesimo salva la vittoria dei nerostellati di nuovo sorridenti dopo cinque sconfitte consecutive. Tre punti d'oro per i Peligni che riprendono il loro cammino alla ricerca della salvezza. Per lo spoltore un altro passo falso, il quarto in un girone di ritorno ancora senza pareggi. Così i due tecnici Alberto Bernardi e Donato Ronci. Mister Bernardi, subito un successo all'esordio sulla panchina dei nerostellati. Tre punti di vitale importanza per questa corsa alla salvezza. Sì, è detto bene. Tre punti che fanno classifica, fanno morale. Bravi, bravi, bravi ai ragazzi perché hanno saputo interpretare la partita nel migliore dei modi. Ci conosciamo da quattro giorni quindi è impensabile pensare che sia merito mio e solo merito loro. Merito di chi è stato prima la guida di questa squadra, al mister Saccoccia, al mister Colella che hanno comunque fatto il loro lavoro. Io oggi prendo in mano questi ragazzi e insomma mi sono piaciuti. Hanno interpretato la gara col piglio giusto, hanno cercato di fare quello che avevo chiesto loro in settimana. Direi tre punti meritati anche se abbiamo sofferto un pochettino alla fine però giocavamo contro una squadra importante. Mister Ronci un confronto molto molto equilibrato, quello tra Nerostellati e Spoltore deciso dal gioiello di vendenza. Cosa rimprovera ai suoi che fino a quel momento comunque non stavano affatto nemeritando? Io credo che dovevamo fare qualcosa di più il primo tempo e invece il primo tempo secondo me li abbiamo subiti un pochettino. Il secondo tempo la squadra stava giocando bene, il gol è un euro-gole di Alessandro ma lì secondo me c'è un errore di reparto perché avevamo sempre detto di non andare a saltare in mezzo al campo ma di fare copertura con tutte e tre i centrali, di non andare sulla spizzata.